tornate tutti sulle vostre postazioni tornate tutti sul balconcino ricordate che la prima la 00 si ricordate la prima riga la prima riga perché le colonne sono segnate difficile sbagliare le colonne ok attivo il monitor io ho attivato io ho attivato io basta uno dei due allora colonna 2 allora colonna 3 sono gli ricordi si è diventato il culo magari non c'è di scritti come me che mercato perché colonna 1 la prima diversità speriamo che non paro attenzione attenzione tutta la pressione su di lui è partito lo schermo colonna 5 non posso non può sbagliare mannaggia mannaggia non può sbagliarla soccaduto ragazzo si va bene va bene va bene ho sbagliato ma scusa questo è questo è sotto qua no raga è sotto porta il balcone vabbè sì che cacchio era scuro non l'avevo vista era scuro si va bene torno torna sotto il balcone vabbè ma è comprensibile è comprensibile dai poverino lui il settore 3 l'ha fatto solo quattro volte come fa a sapere come è fatto il settore 3 sarà solo la quarta volta che lo fa e quattro quando si vede sotto il balcone torna tessuto allora se no 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 ma non venire da nessuna parte attiva stimo monitor cosa vedi sotto qua cosa vedi dai ciao ciao ciao